Questo era bellissimo, il regista mi ha appena detto che però tra poco c'è bisogno di un altro ancora più fragoroso, quindi aspettiamo un attimo. Avete preso i dolci, la torta Caruso per prendere le energie necessarie per questi applausi? Sì, avete assaggiato un po' tutti, vedo che ancora ce ne sono un po', quindi chi non l'ha gustato più tardi può avvicinarsi al tavolo e assaggiare questa prelibatezza che ha partecipato a un concorso internazionale di pasticceria, quindi una torta premiata. Vediamo adesso se il nostro regista ci dà via. Partiamo col primo applauso? Grazie.